ciao a tutti spero che state bene dopo la vittoria di ieri sera Melitata era una buona partita per me il migliore del campo è Baghera che ha fatto una grandissima partita è un anno che ha fatto due parata molto importante dopo era una partita tatticamente hanno giocato bene hanno per me hanno fatto una partita giusta la Juventus non ha fatto quasi niente perché l'Inter è stato superiore ieri alla Juve siamo in finale molto di vanno dire che è il finale della Coppa italiana ma è un trofeo ma io se sono un giocatore il trofeo lo prendo ma aspettiamo l'altro semifinal penso che sarà Firenze allora penso che abbiamo molta possibilità di vincere la Coppa Italia adesso è la radio domenica dobbiamo vincere perché dobbiamo per forza arrivare dalle quattro primi e se facciamo un buon risultato contro la Lazio certo dipende anche della Roma e del Milan ma vincere contro la Lazio questo sarebbe un buon passo per la fiducia con continuità perché questo momento è un bel momento per l'Inter con la Coppa dei Coppioni con la Coppa Italia tutti dicono che siamo solo sono forti per la Coppa penso che contro la Lazio e l'opportunità di far vedere che anche in Coppionato possiamo vincere e finire tra i primi quattro della classifica dopo pensiamo alla semifinale contro il Milan Coppa dei Coppa dei Coppioni e vi auguro una buona giornata e come dico sempre Forza Inter ciao a tutti ciao